La Toscana diventa zona rossa, vi spieghiamo quello che si può fare e quale attività resteranno aperte. Morto Don Rumberto Fedi, parroco di tavola per 64 anni, lunedì, funerale in diretta su TV Pravo. Vertice per fare il punto ci lavori per la linea direttissima, i sindaci della Val Bisenzio chiedono garanzie per residenti e pendolari. Buongiorno, come abbiamo detto la Toscana da domani è zona rossa, ecco quello che cambia e i negozi che resteranno aperti in questo servizio. La Toscana diventa zona rossa a partire da domani. Appesare sul passaggio da zona arancione a zona rossa della nostra regione sarebbe soprattutto l'indice RT, il tasso di contagiosità a 1,8, il più alto a livello nazionale nella settimana dal 2 all'8 novembre. Il comitato tecnico scientifico ha esaminato i dati dei 21 parametri considerati per la decisione delle fasce e ha confermato per la nostra regione l'inasprimento delle restrizioni. Solo mercoledì la Toscana era passata dalla fascia gialla a quella arancione. Ecco quello che succede col passaggio in zona rossa. È vietato ogni spostamento anche all'interno del proprio comune, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute, vietati gli spostamenti da una regione all'altra e da un comune all'altro, servirà sempre l'autocertificazione. Bar e ristoranti sono chiusi sette giorni su sette alle consumazioni sul posto, ma l'asporto è consentito fino alle 22, restano valide le consegne a domicilio. Sono chiusi tutti i negozi al dettaglio, rimangono aperti i rivenditori di genere alimentare, le farmacie, le parafarmacie, i tabaccai, l'edicole, lavanderie, ferramenta, ottici, fiorai, librerie, cartolerie, negozi di informatica, abbigliamento per bambini, giocattolai, profumerie, distributori automatici. I centri commerciali sono chiusi, all'interno possono essere aperti gli alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i tabaccai. I mercati sono chiusi, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Parrucchieri e barbieri sono aperti, centri estetici e centri massaggi sono chiusi. Didattica a distanza per le superiori e le classi di seconda e terza media, in presenza solo le scuole dell'infanzia, le elementari e la prima media. È consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione, attività sportiva solo all'aperto in forma individuale. Chiusi musei e mostre, chiusi anche teatri, cinema e palestre. Ricordiamo infine che sarà consentito andare a messa, ma sempre muniti di autocertificazione. L'istituzione della zona rossa ha lasciato perplessa l'Agenzia regionale di sanità e anche il governatore Gianni si è detto sorpreso e amareggiato. In Toscana le curve dei casi e dei ricoverati generali sembrano essere vicine ad aver trovato il loro momento di picco. È quanto si afferma in un report diffuso oggi dall'Agenzia regionale di sanità. È prevedibile, prosegue il documento, che dovremo aspettare ancora 15 giorni per osservare la curva appiattirsi e se le misure di maggiore restrizione recentemente attivate avranno il loro effetto avviarsi ad una lenta discesa. Rimaniamo però un po' imbarazzati, aggiungono gli esperti dell'ARS, da un sistema di monitoraggio nazionale che non dà il tempo di verificare se le misure messe in atto sortiscono degli effetti, come nel caso della Toscana, passata da zona gialla a zona arancione e poi rossa nel giro di una settimana. Secondo quanto reso noto dal report al momento, in Toscana i ricoveri sono la maggiore criticità, soprattutto per la carenza di personale. Esprimo sorpresa amarezza perché i dati su cui è fondata la decisione sono quelli della settimana dall'1 all'8 novembre, ha commentato il presidente della regione toscana Eugenio Gianni. Oggi e negli ultimi giorni ho visto in Toscana un cauto ma aggettivo sollievo perché la curva pandemica tende a rallentare e stabilizzarsi. Ritenevo quindi che potesse mantenersi le livelle arancione senza accedere alla zona rossa, ha concluso il governatore. Tavola dice addio a Don Uberto Fedi. Il priore, come veniva chiamato dai fedeli della frazione, aveva contratto il coronavirus. Era la guida della comunità tavolese da 64 anni. È morto questa mattina alle prime luci dell'alba Don Uberto Fedi. Il sacerdote era ricoverato dal 4 novembre all'ospedale di Prato per aver contratto il coronavirus. Aveva 89 anni, era il parroco più anziano della chiesa pratese. Da ben 64 anni era la guida della comunità di Santa Maria Maddalena a tavola. Don Fedi aveva lasciato la terapia intensiva e si trovava nel reparto di cure parliative. Le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate nelle ultime ore. Il covid purtroppo ha minato una situazione clinica resa fragile dall'età avanzata e questa mattina presto è arrivato il decesso. Don Fedi era un sacerdote molto conosciuto e apprezzato in città. Il suo nome era legato in modo escindibile a tavola, frazione di Prato, che è cresciuta durante la sua lunghissima permanenza in parrocchia. Qui arrivò nel 1956, due anni dopo, la sua ordinazione sacerdotale. Quando Don Fedi arrivò a tavola, come amava raccontare, c'era solo la chiesa. Così negli anni successivi il parroco, chiamato da tutti semplicemente il priore, costruì il circolo, il centro pastorale, la scuola materna, della quale è sempre stato orgoglioso. Sotto la sua guida in parrocchia si sono formati gruppi parrocchiali molto attivi, come il gruppo famiglie, quello dei ministri straordinari dell'Equarestia e la Caritas. Il funerale di Don Fedi si terrà a porte chiuse nella chiesa di tavola per le restrizioni sanitarie lunedì e sarà trasmesso dalle 15 in diretta su TV Prato. Direttissima Prato-Bologna, incontro tra i sindaci della Vallata, l'assessore regionale Baccelli e RFI per pianificare i lavori. Prosegue il confronto con i territori per il potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria direttissima Prato-Bologna. Il neassessore alle infrastrutture e ai trasporti della regione toscana Stefano Baccelli ha incontrato dal remoto gli amministratori dei comuni di Prato, Vaiano, Cantagallo e Vernio e i tecnici di RFI. Al centro della discussione le conseguenze sul servizio ferroviario dei lavori, il possibile impatto acustico dei cantieri, l'eventuale traffico di mezzi pesanti che potrebbe gravare sulla SR325 e la possibilità di interventi di mitigazione. La ferrovia Prato-Bologna sarà oggetto di importanti interventi per l'adeguamento al trasporto merci secondo gli standard europei. Si tratta di un investimento dal valore complessivo di 458 milioni di euro che avrà valore strategico per tutta la Toscana e i suoi distretti produttivi, oltre che per le nostre grandi infrastrutture logistiche come porti di Piombino, Livorno e Marina di Carrara e gli interporti di Guasticcio e Prato, ha ricordato Baccelli. L'assessore ha aggiunto che la regione farà quanto possibile per ascoltare la voce dei territori e alleggerire i disagi dei pendolari che utilizzano la linea, anche attraverso un servizio di bus sostitutivi che affiancherà la nuova programmazione ferroviaria. Ad ora il cronoprogramma presentato da RFI prevede interventi sulla tratta Prato-Vernio nel 2021, sulla tratta Pianoro-San Benedetto nel 2023 e sulla Grande Galleria dell'Appennino-Vernio-San Benedetto nel 2025. I siendesci di Cantagallo, Vaiane e Verni hanno chiesto la realizzazione di barriere antirumore finalizzate a salvaguardare la qualità della vita dei cittadini nella fase dei lavori anche dopo il ripristino del servizio, il trasporto dei materiali destinati ai cantiere utilizzando la ferrovia e non la viabilità della vallata e l'integrazione economica dei titoli di viaggio ferro-gomma per favorire al massimo l'utenza nella fase dei lavori. Confermata di nuovo anche la richiesta delle opere infrastrutturali a servizio delle stazioni di Vaiane e Vernio che verranno riqualificate nel giro di un paio di anni e la realizzazione delle nuove fermate di Terrigoli, Carmine Anello e Labriglia. Domani è la giornata mondiale dei poveri indetta da Papa Francesco. In preparazione a questa ricorrenza la Caritas di Prato ha pensato ad un ricco palinsesto Facebook fatto di riflessioni, testimonianze, musica e poesia, tra i contributi anche quelli del Vescovo, del Sindaco e della direttrice della Caritas e di tanti comuni cittadini. Tendi la tua mano al povero, è questo l'invito rivolto a tutti da Papa Francesco per la quarta giornata mondiale dei poveri in programma per domani, domenica 15 novembre. E anche la Caritas diocesana di Prato in occasione di questo appuntamento ha organizzato una serie di proposte di riflessione che hanno visto al centro i mezzi di comunicazione con dirette tv e Facebook. Ieri sera, in collaborazione con la Caritas di Lucca, sulla pagina Facebook della Caritas diocesana di Prato è stato trasmesso in diretta l'incontro con suora Alessandra Smerilli, dedicato all'enciclica Fratelli Tutti. Per l'intera giornata di oggi invece spazio a riflessioni, testimonianze, musiche e poesie sempre sulla pagina Facebook della Caritas di Prato. Dobbiamo riscoprire a livello dei nostri paesi, delle nostre parrocchie, questa prossimità che fa sentire gli altri non solo sopravvissuti, ma davvero vivi, cioè vivi e quindi inseriti in un contesto, in un tessuto di relazioni importanti, belle. Cerchiamo di essere generosi, la generosità ci renderà davvero più sereni, più tranquilli. Tra le riflessioni pubblicate è anche quella dell'assessore Flora Leoni, del prefetto Lucia Volpe, poi alcuni sacerdoti pratesi, medici, operatori sanitari che hanno raccontato la loro esperienza dal fronte, ma anche insegnanti e dirigenti scolastici che hanno parlato dell'esperienza educativa e poi ancora operatori della carità, ragazzi, studenti e imprenditori. Quello che questa situazione ha messo in luce come mancanza è, direi, prima di tutto è fondamentalmente la mancanza di relazione. Per relazione intendo tutto, relazione verbale, ma non tanto la relazione di contatto, sicuramente quella visiva. Ricordiamo che dalle 17.30 in Duomo verranno recitati i Vespri Solenni, a seguire verrà celebrata la messa, presiede l'assistente spirituale della Caritas Diocesana di Prato, padre Matteo Pedrini. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su TV Prato. Questa era l'ultima notizia, il Tg termina qui, l'appuntamento con informazione per il Tg delle 20.30. Grazie dell'attenzione, buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.